allora bentornati nel mio bunker che vedete qui a mie spalle un po più addobbato rispetto al passato devo dire sempre sempre più accogliente spero che piaccia anche a voi tornare qui vedere cosine nuove perché tanto so che sbirciate no comunque a parte questo bentornati dicevo per parlare quest'oggi di un libricino piccolino piccino piccino ma molto carino che però va introdotto con una premessa negli ultimi anni la letteratura per ragazzi è decisamente cambiata o forse siamo cambiati noi che una volta ne facevamo uso e che ora siamo diversamente giovani tolvia a me sembra che la letteratura per ragazzi degli ultimi anni si sia divisa in qualche grande troncone quindi il romance che va molto bene che va molto bene soprattutto nelle lettrici e tutto quel filone distopico pseudo distopico che adesso forse è un po in calo ma che per molti anni da hunger games in poi ha dominato le classifiche di vendita poi c'è tutto l'urban fantasy insomma ci sono questi grandi filoni che però sono diversi dalla letteratura per ragazzi che c'era alla mia epoca e a dire alla mia epoca fa di me davvero un boomer ma è possibile tornare a quel tipo a quel genere di storie che io ho letto e ho visto al cinema perché sì c'è anche la componente cinema quando avevo 15 16 anni qualcosa in meno neanche qualcosa in più la risposta è sì basta volerlo e alessandro fusco che è un autore l'ha voluto e ha lanciato una collana di libricini molto carini che sono piacevoli per noi adulti che siamo cresciuti con un certo tipo di cultura di letteratura e ottimi secondo me per i vostri figli se volete fargli leggere qualcosa di carino che si rallaccia un po a quelle a quello che era il vostro gusto dell'avventura del fantastico da ragazzi insomma facciamola breve è questo qui è il primo libricino della collana rick shelly e il club degli impossibili primo volume dicevo disponibile in cartaceo in e in ebook questa è la versione cartacea con una splendida copertina di livia de simone splendida davvero e vi stupirà forse scoprire che questa è un'autoproduzione quindi un libro indipendente un libro indie chiamarlo self come al solito mi sembra un pochino come svalutarlo perché self viene identificato come quel progetto buttato su amazon senza particolare cura invece il libro di alessandro fusco è curatissimo nell'impaginazione nella grafica in tutto quanto la storia la storia è presto detta rick shelly è un ragazzo come tanti leggo la quarta di copertina così facciamo prima con tanti sogni e una nuova vita davanti a sé dopo essersi trasferito in america insieme al padre ma rick come ha chiamato da tutti è anche un ragazzo molto speciale seppure il dono particolare che possiede non piace a nessuno non sia di certo di moda e neppure di aiuto per fare nuove conoscenze quel che gli occorre perciò una squadra di amici altrettanto speciali pronti ad affrontare tutti insieme qualcosa di oscuro di straordinario che proprio nell'isolata e all'apparenza perfetta città di whiteport sulla costa del main lo attende allora è un'avventura che richiama a suggestioni innanzitutto vedete la componente la banda di ragazzi la banda di amici che si aggrega per scoprire i misteri quindi siamo subito dalle parti dei goonies abbiamo un po' le atmosfere di stand by me abbiamo dei richiami ghostbusters insomma tutta quella tipologia di film di cui parliamo spesso per esempio io e sveva su lost boy sulla nostra rubrica podcast e video ma di cui ho parlato spesso anche in questi anni su youtube su instagram ma abbiamo quelle suggestioni lì in una storia fresca questo vedete è un libro che si legge in fretta sono 120 pagine in caratteri grossi quindi si legge veramente in poche sere a prezzo adeguato 9 90 euro oppure in ebook e lascia delle buone sensazioni buone sensazioni di un viaggio ritroso nel tempo ma con un linguaggio moderno uno stile molto buono come quello di alessandro che è uno scrittore professionista da anni e che si è lanciato in questa avventura dopo aver bazzicato il fantasy per anni che non ha settore campo che non ha abbandonato ok però si è lanciato in questa nuova esperienza di libri per ragazzi però fruibili anche da adulti adulti che hanno come dicevo una certa formazione come la nostra come la nostra che abbiamo apprezzato i titoli che che ho citato poc'anzi quindi appunto goonies ghostbusters it abbiamo qualcosa di it ma anche piccoli brividi per esempio la coreana piccoli brividi ma ancora le storie a bivi come scegli la tua avventura il libro game cose che vengono anche citate come easter egg perdonatemi nel primo volume suppongo anche nel secondo che non ho ancora letto una lettura consigliata sì una lettura che potete appunto regalare anche ai vostri figli che potrebbero apprezzarla anche se magari sono abituati hanno young adult differente come dicevo però perché non fargli provare qualcosa di piacevole ben scritto e che potrebbe comunque appagare i loro gusti se per esempio amano stranger things qui trovano qualcosa di stranger things sicuramente sicuramente sì infatti stranger things non inventa nulla di nuovo ma rielabora certe atmosfere certe suggestioni lo fa in maniera molto furba molto sapiente riuscendo a tramandare il gusto dell'avventura di un certo tipo di letteratura e di filmografia alle nuove generazioni ed è un po quello che fa cerca di fare alessandro con questa collana dunque io ve la consiglio vi lascio al solito il link in descrizione al solito vi chiedo di iscrivervi al canale lasciare un like e lasciare una recensione a questi libri così come i miei come a tutti quelli di cui parlo perché ogni tanto vale la pena arrivare a dirlo un feedback una recensione su amazon o almeno un passaparola o due righe su anove su goodreads servono davvero a far emergere progetti davvero così belli guardate così belli così curati che non vedrete non ne sentirete certo parlare sui canali mainstream io vi saluto e vi auguro al solito buone buone letture e alla prossima cercherò ancora una volta non so se esattamente nel prossimo video ma sicuramente in futuro di far emergere questi piccoli progetti meritori e davvero davvero fatti con cura con amore e con sapienza